Il fortunone, lo sculato come direbbe il nostro caro amico Cassano Il fortunone, Carlo Ancelotti ne ha vinto un altro 4 Supercoppe europee d'allenatore, tanto per cambiare anche in questo caso record assoluto Quindi non solo è l'allenatore a vincere più UEFA Champions League d'allenatore ma anche Supercoppe Quindi per quanto riguarda le competizioni UEFA non ce n'è ma se uno nasce con la camicia è troppo facile giusto? Apro una piccola parentesi piccolina prima di parlare di Real Madrid Francoforte Com'è possibile al 10 d'agosto signorini come cavolo è possibile avere il raffreddore e il mal di gola? Riuscire a buscarsi un raffreddore e un mal di gola al 10 d'agosto? E' lavoro duro eh, complimenti a me ma complimenti per davvero Prima di partire vi invito come al solito a lasciare like se volete sostenere la mia guarigione Fatelo, non è che ce l'avete con me quindi dimostratevi buoni Iscrivetevi al canale per seguirmi, siamo vicinissimi ai 180.000 e vi ringrazio per questo trofeo Sì trofeo, oddio Quando parlo di Angelotti gli trofei balzano in te, ci sono i trofei per la testa Comunque a modo mio anche questo, a modo nostro anche questo è un trofeo E vi ringrazio perché andiamo verso i 100.000 addirittura anche su Facebook e vi ringrazio Siete gentilissimi, io per ricambiare la vostra fiducia Vi ripropongo OneFootball, l'applicazione che ad agosto fa al caso vostro Ad agosto fa al caso vostro, questa non me l'ho preparata ma è bella La riproporrò, perché? Perché? Adesso come mai no? Mentre io sto qua raffreddato, voi sarete sicuramente bello a godermi le vacanze Mare, bello, rilassati, spiaggia, tutto quello che vi pare E allora, comunque volete avere una finestrella di notizie Volete essere aggiornati, stare lì sul pezzo OneFootball app che gratuitamente fa tutto ciò Senza disturbi, senza intoppi Quindi il link in descrizione ho qui il codice Perché chi non l'ha scaricata? Lo deve fa, lo deve fa e mi ringrazierete Real Madrid, Francoforte 2-0 Ragazzi miei Il solito Real, il solito Real che piglia tutto E che vince anche la Supercoppa Il solito Real, quello che abbiamo visto nella finale di Champions Solita corazzata, soliti 11 Solito trio, padre, figlio e spirito santo a centrocampo Ossia Toni Kroos, Casemiro e Modric Una chiave, è un cuore che ha portato a tanti tanti successi in casa In casa Blanco, Blanca, diciamo così In casa dei Blancos, incredibile Incredibile davvero Incredibile Incredibile l'ennesimo gol di Benzema Ma se c'è una piccola difficoltà Viene subito Sopito, comunque viene attutita dai guantoni di Courtois Perché dopo un inizio Dove comunque è rimasto in partita l'Eintracht Se vogliamo È rimasto in partita quasi per tutta la gara Perché anche sull'1-0 Qualche situazione C'è stato un tiro nel secondo tempo dell'Eintracht Un po' molle Dove era, se non sbaglio Sì, facilmente aveva messo a sede Mendy E si era liberato Quindi l'Eintracht volendo è rimasto in partita Questo lo dobbiamo dire Ma dove appunto non riesce la difesa madrileana C'è sempre Courtois Che nel primo tempo, ripeto Su un tiro fuori gioco Comunque aveva parato Dopo si impone Su Camada C'è da dire che lì Si è impappocchiato anche Camada Assolutamente Però Sorpassare Oltrepassare l'ultimo ostacolo Del Real Madrid Ossia questo portiere È veramente Veramente Difficile È veramente Veramente Dura L'unico neo del Real Devo dire Secondo me Resta Resta la difesa La difesa concede Qualcosina Qualcosina di troppo Facilmente Alcune volte Si apre Si scompone Devo dire Che sulla sinistra Malgrado sia un giocatore Molto interessante Menti Dietro Secondo me Non offre Grandi garanzie Per cui Capisco Come al solito Come li chiamano I meriti di Come si dice In questi casi Quando un allenatore Giustamente Si affida Agli undici Che poi L'hanno portato A vincere qualcosa La riconoscenza I meriti di riconoscenza Verso alcuni giocatori Sta storia deve finire Per Angelotti Sennò potrebbe Magari Avere delle Ripercussioni Nella stagione Perché se penso A un giocatore Come Rudiger È vero che l'ha inserito Da poco Come io Rudiger Lo metterei Sempre Sempre titolare Magari metti Alaba Come terzino Sulla sinistra Ma Rudiger Secondo me È molto Molto affidabile E Da sicuramente E darà sicuramente Un aiuto Poi Angelotti All'imbarazzo Della scelta Io non Penso neanche Come ho detto prima I titolari Che Conosciamo tutti Ma se puoi Dalla panchina Puoi mettere Gente come Camavinga Cioè Menni Rodrigo Sebaglios Ma chi più ne ha Più ne metta Ragazzi C'è un divario Abissale Ogni volta che vedo Una partita Di queste squadre qua Come il Real Io rimango veramente Basito Mamma mia Dalla Dalla lunghezza Dalla quantità Della qualità Quantità Sulla qualità Impressionante Una roba Che mi lascia Di stucco E come dicevo prima Se c'è un allenatore Che è capace comunque Di gestire Questi ragazzi Angelotti Perché Esordivamo Scherzando In questo video Fortunato Quello che vuoi Ma se c'è una cosa difficile Proprio gestire Tutti questi giocatori Ed è una chiave Importante Per il successo Riuscire In questo In questo Competence C'è un allenatore Capace Che gli ha portato Tantissimi trofei Se non sbaglio 23 Allenatori 23 trofei Allenatori Sono veramente Tanti ragazzi Sono veramente Tanti Se consideriamo Che la metà Sono Meno della metà Ma poco meno Della metà Sono competizioni europee Veramente Tanta 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 roba Per Per Carletto Il magnifico Carletto Fantastico Per davvero E L'altro giocatore Che ha segnato anche oggi Benzema L'ha messa Messa dentro Non alla prima occasione Dove tra l'altro Fa un bellissimo Comunque Smarcamento Come riesce a smarcarsi In aria lui Una cosa clamorosa Poi Non c'entra la porta Ma si rifà Nella ripresa Forse sicuramente Poteva fare meglio Anche il portiere Fatto sta che Il Real Madrid Ragazzi Mi è veramente Un'armata Un'armata Incredibile Se riesce a trovare Maggiormente Equilibrio Può Arrivare Nuovamente Fino in fondo Ma Non aggiungiamo Nulla Nulla Di nuovo Niente Vittore contro L'Aintracht L'Aintracht Che come sapevamo Era anche Orfano di Kostic Non lo so Se sarebbe Cambiato qualcosa Onestamente Neanche Se avesse Segnato Quel gol Camadà Inizialmente Dove Dove Solitamente Si dice No Un gol Lì magari Avrebbe potuto Cambiare la partita Io dico di no Perché il Real Madrid Nella scorsa stagione Soprattutto in Europa Ci ha dimostrato Che Si un gol Lo potevano E l'hanno anche preso Ma poi Sono riusciti A fare Dell'impresa incredibile A ribaltare Qualcosa di ribaltabile Per cui Oggi Secondo me La gara Era già Abbastanza Segnata Anche se Sapevamo Appunto Sapevamo Che L'Aintracht Veniva da una sonora Sconfitta contro il Bayern 6 a 1 E' andata diversamente Sicuramente oggi Però L'epilogo E' stato lo stesso Vittoria per il Real Sconfitta Per L'Aintracht Signori miei Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Commentate Se volete Iscrivetevi al canale Un grande abbraccio Danesi Mamma mia Quanto è fortunato Carlo Ancelotti Quanto lo è Si